ciao ciao a tutti ciao allora intanto un saluto affettosissimo alla compagnia dei frastornati di castelbuono sì prima di tutto salutiamo loro però diciamo perché siamo qui stiamo facendo questo video allora noi vogliamo invitare tutte le compagnie di teatro materiale a partecipare a un evento straordinario organizzato proprio dai ragazzi della compagnia frastornati che è il gran galà del teatro dialettale premio città di castelbuono meno male che registi diciamo non c'è registi tutte cose tu ah beh l'ho detto ma se tu vuoi dire qualcosa no no bisogna bisogna premiare il teatro amatoriale è la base di tutto è proprio quello che volevo dire io il teatro amatoriale va premiato quindi mi raccomando lavorate vuoi dire qualcos'altro io saluto a tutti e invito a iscrivervi a questo concorso vive il teatro dai dillo eh? di vive il teatro io dico quello che ha detto lei vive il teatro amatoriale ciao ciao ma questa volta però fanno parlare anche un po' di 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 un po' di